In una realtà editoriale in cui da una parte esistono 4-5 grandi gruppi editoriali e in un'altra alcune migliaia di medie, piccole e piccolissime case editrici si è detto in altri video che non possono esistere regole identiche sia per i grandi sia per i piccoli. Bisogna fare una trasformazione radicale e stabilire regole del gioco diverse per gli uni e per gli altri e per quanto riguarda le medie, piccole, piccolissime editorie bisognerebbe o abolire il diritto di resa da parte dei librai dei loro prodotti, ma questo potrebbe determinare un crollo completo delle richieste da parte delle librerie dei loro prodotti, oppure dilatare nel tempo il diritto di resa per quanto riguarda i prodotti di case editrici che mettono sul mercato non più di 15, 16, 18 titoli l'anno rispetto alle case editrici e ai grossi gruppi editoriali che mettono sul mercato centinaia di novità ogni mese. Già una trasformazione in questo senso darebbe alla piccola casa editrice il respiro necessario per essere presente sul mercato il tempo necessario secondo i suoi ritmi di novità. se a un certo punto una piccola casa editrice potesse godere del blocco del diritto di resa di sei mesi di ogni suo titolo, questo sarebbe già un risultato importante per la piccola casa editrice e questo già abbatterebbe quel giochetto di rendere i libri dei piccoli editori per fare cassa per pagare i libri venduti dei grandi editori.